Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come aggiornare il firmware del Flight Controller Betaflight F3. Aggiornare il firmware è importante perchè le nuove versioni di Betaflight garantiscono un volo più stabile e preciso, correggono eventuali bug e aggiungono molte nuove funzionalità. Il Flight Controller Betaflight F3 è uno dei più completi e performanti presenti sul mercato, se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione. Per prima cosa assicuriamoci di aver scaricato e installato i driver cp210 e stm usb. Scarichiamo anche il software Zadig. Dopo aver installato i driver che abbiamo scaricato colleghiamo il Flight Controller al PC. In questa fase è indispensabile collegare il Flight Controller tenendo premuto il tasto boot. Dopo averlo collegato rilasciamo il tasto boot. Eseguiamo il programma Zadig come amministratore, andiamo su Opzioni e spuntiamo List al Device. In questo menu a tendina scegliamo STM32 Bootloader. Quindi clicchiamo Replace Driver. Terminato il processo possiamo chiudere e scollegare il Flight Controller. Avviamo Betaflight e colleghiamo il Flight Controller al PC tenendo premuto il tasto boot. Una volta collegato possiamo anche rilasciare. Clicchiamo su Firmware Flasher. Qui scegliamo il modello del nostro Flight Controller, in questo caso Betaflight F3. Su Firmware Version ricordiamoci di scegliere sempre l'ultima versione disponibile. Abilitiamo Non Reboot Sequence e Full Chip Erase e clicchiamo su Load Firmware. Poi su Flash Firmware. Una volta completato l'aggiornamento possiamo cliccare su Connect. Come vedete muovendo il Flight Controller si muove a schermo il nostro modello. Una volta fatto l'upgrade del firmware dobbiamo configurare Betaflight a seconda dei componenti del nostro quad. Questo era il mio tutorial su come eseguire il Flash del firmware del Flight Controller Betaflight F3. Grazie per aver visto il video non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete anche supportarmi su Patreon cliccando il link a fine video. Grazie.